Camminare lungo vie e attraversare piazze dai nomi che si conoscono da sempre senza, in verità, sapere chi siano i personaggi cui sono intitolate. Grazie all'ottimo lavoro multidisciplinare svolto dagli allunni delle terze medie della scuola Torelli di Sondrio, ora però anche la toponomastica può darci lezioni di storia. Perché la storia, appunto, è sempre fatta dai personaggi, anche valtellinesi, che l'hanno scritta. Nella fattispecie i ragazzi delle terze della scuola diretta da Raffaella Giana si sono concentrati sul Risorgimento, periodo cui anche la Valtellina diede il proprio contributo. Come amministratore comunale volevamo proprio che si creasse un'affezione diversa nei confronti di questi personaggi che non fossero soltanto nomi ma fossero persone e quindi avevamo chiesto alle scuole, appunto anche assieme alla studiosa di storia Saveria Masa, avevamo chiesto proprio di far riflettere gli alunni su questi personaggi in modo tale da poter poi, con un progetto futuro, arricchire con le ricerche degli studenti le targhette. Appunto, adesso poi stiamo studiando, è un progetto in via di sviluppo, le modalità con le quali comunicare queste informazioni. Però c'è proprio lo studio, grazie appunto alla consulenza della dottoressa Masa ed era importante, secondo me, far lavorare i ragazzi proprio per creare questa maggior consapevolezza e anche attaccamento alla città. L'esito finale di questa unità interdisciplinare che è stata creata per partecipare al concorso della valorizzazione dei personaggi delle vie di Sondrio. Ne è uscito un prodotto multimediale, una piantina interattiva nella quale si possono scoprire di volta in volta i personaggi che hanno fatto la storia italiana e della nostra provincia e ci sembra una cosa ben riuscita. Ecco così scoprire che Dolzino è il cognome del chiavennasco Francesco che nel 1848 a Verceia riuscì a bloccare le truppe austriache che cercavano di riconquistare Chiavenna. Oppure che il segretario della Repubblica Romana guidata da Giuseppe Mazzini fu Maurizio Quadrio, nativo di Chiavenna ma cresciuto al Chiuro, grande amico di Mazzini e appunto suo uomo di fiducia. E che dire di Luigi Torelli? Nativo di Villa di Tirano fu proprio colui che issò sulla guglia più alta del Duomo la bandiera italiana nel 1848 durante le cinque giornate. E di Torelli, la scuola che porta il suo nome può vantare al muro anche un prezioso ricordo. Abbiamo scoperto anche e inaugurato anche una lettera autografa di Luigi Torelli alla quale è dedicata la scuola Torelli e questo fa sempre parte del percorso di scoperta e conoscenza di chi ha fatto la nostra storia. Più che soddisfatta per il risultato di questo lavoro di studio e di ricerca l'assessore all'istruzione del comune di Sondrio. Hanno lavorato da un punto di vista dei contenuti bene e soprattutto ecco in questo istituto è molto bello il fatto che ci siano anche delle arti quindi hanno arricchito con la musica quindi questi ragazzi si sono messi in gioco anche per studiare appunto anche quello che sono le manifestazioni musicali di quell'epoca e poi hanno tradotto anche in inglese quindi hanno pensato anche di farsi capire da tutti per cui insomma ho apprezzato molto il lavoro, ho apprezzato molto l'entusiasmo degli insegnanti e la loro competenza e il lavoro dei ragazzi.